Salve a tutti, oggi ci troviamo ad Orta Diatella, via Gherace. L'appartamento che vi voglio mostrare si trova al piano rialzato, composto da soggiorno cucina, due camere da letto, due bagni, terrazzino, balcone e box auto. Entriamo! Eccoci qua, ingresso in soggiorno cucina. Un lato soggiorno e cucina. Ecco la faccio sul terrazzo. Ecco, terrazzo attrezzato con cucina. Entriamo. E' una notte con camera da letto matrimoniale. Bagno. Il secondo bagno. La cameretta dei bambini. E la faccio lato interno. Questo è il cortile condominiale dove ci sono i posti auto di chi magari non ha il box auto. Mentre come vi dicevo, noi abbinato a questo appartamento abbiamo un box auto doppio soppalcato. Su questo balcone abbiamo anche un ripostiglio che funge anche da lavanderia. Quindi ricapitolando, appartamento Orta di Atella, via Ierace. Piano rialzato con soggiorno cucina, due camere da letto, due bagni, balcone, terrazzo e box auto doppio soppalcato. Per informazioni, chiama Antimo, la casa ideale 349-0694-336.